In conferenza stampa con Nicola Loiodici, attaccante dell'audace Cerignola dopo il successo interno contro il Francavilla che ha ridato luce all'audace dopo un periodo buio. Era importante tornare a vincere e lo avete fatto peraltro nella gara d'esordio del neotecnico Vincenzo Feola. Sicuramente era importante vincere anche perché dovevamo dare una scossa, dovevamo far capire che noi ci siamo anche per l'esordio del mister. Quindi è venuta una bella vittoria, ma dobbiamo solo dare continuità. Come è stata la scorsa questa settimana da voi che vi siete allenati, non vi siete mai fermati, anche perché adesso l'obiettivo è quello di dare continuità ai propri risultati. Sì, ci siamo allenati bene, ma come sempre ci alleniamo bene dall'inizio anno, anche quando stavo l'altro allenatore. Ci siamo allenati bene, purtroppo ci è andata male, qualche partita creavamo ma non finalizzavamo e ci è andata male. Domenica è andata bene e adesso dobbiamo dare, appunto come ho detto prima, continuità e fare risultato. Come ti trovi con questo nuovo modulo che è cambiato a seguito della nuova gestione Feola? No, vabbè, noi ci troviamo bene, anche perché siamo ritornati sia io che gli altri esterni, magari nei nostri ruoli. Quindi ci troviamo bene, ci stiamo allenando benissimo e ti ho detto, dobbiamo solo dare continuità, soprattutto fuori casa, che è molto importante. Si va in trasferta, avversario ostico e mi riferisco al Gladiator che ha messo in difficoltà il Casarano. Domenica al Capozza, un Gladiator che peraltro fa delle proprie muramiche, il proprio fortino. Dieci punti dei quindici conquistati li ha totalizzati in casa. Sì, è un'ottima squadra, comunque ha ottimi elementi, non va stato valutata, dobbiamo andare là, dobbiamo andare con la mentalità giusta. Sappiamo che non è facile, sarà una guerra e noi ce la metteremo tutta per portarci a casi tre punti che sono fondamentali. Se dovessimo analizzare la stagione al di là dei risultati, al di là della classifica, da quando si è arrivato a questo momento, fattori di crescita? Noi ci siamo sempre stati, come ho detto prima, le nostre prestazioni le abbiamo sempre fatte. Purtroppo ci è andata male, sbagliavamo i gol noi avanti e al primo tiro in porta prendevamo gol. Noi ci abbiamo sempre messo l'anima, purtroppo il calcio è anche questo, ci è girata male e adesso dobbiamo cambiare la rotta, dobbiamo vincere. In bocca al lupo a Nicola Loyodice, attaccante dell'Odace Cerignola. Grazie.